Mi sto trovando molto bene, tutto ciò è avvenuto tramite Audi Sport Italia che io sto facendo già un altro campionato con loro e mi hanno chiesto se volevo fare la gara dell'Euro V8 Series e sarò presente agli ultimi tre appuntamenti. No, la macchina mi trovo bene, poi con i ragazzi dell'Audi mi trovo sempre bene, la macchina è divertente, è molto divertente anche questa. Ad esempio rispetto alla GT è trazione 4 che è diversa, però come stile di guida bisogna adattarsi, poi vabbè il cambio sequenziale non al volante, alla leva e per il resto sì, lo stile di guida essendo 4 è un po' differente, basta adattarsi e per il resto tutto a posto.